questa è la sessione di jackie ciao stefania ciao abbiamo finito i punti 5 4 3 2 si vede jackie si mostra dunque con delle altre persone miste uomini donne fanno un cerchio e sono stanno celebrando qualche diciamo ritualità qualche festa qualche cosa celebrazione e sono tutti in cerchi si danno la mano un cerchio grande ti dà l'autorizzazione sì è una vita precedente questo scusate sì si giustruiamo la vediamo allora come fosse un gruppo allora non una tribù intesa come come quelle dell'india stella africa è una tribù allora li vedo sull'europeo insomma come come allenamenti e però sono in una zona tipo montana però vedo vedo come un comprato dei fiori e loro che sono vestiti con abiti comodi diciamo così non mi sembra tanto in là nel tempo può essere proprio ancora in questo questo secolo causa di questa vita mostrata e nome di jackie all'epoca così vediamo anche sono una donna a una donna è una trentina d'anni 30 32 ma vedo che è bionda capelli biondi un po sotto le spalle di anche un compagno finanziato marito insomma che lì che fa parte di questo cerchio sono e come se vivessero in una come si chiama in una collettività di una collettività di persone in un posto a parte non mi viene il nome non è in scelta ma avessero proprio una con uno spazio dove vivono in una comune dove vivano proprio a contatto con la con la terra con la natura celebrano tipo il saluto del sole anziché anziché la sera prima di andare a letto proprio fanno tutto c'è diciamo dei rituali ma di di saluti di ringraziamenti così legati alla natura è uomo donna e alle donne e donna piace la mostra ce la mostra da una parte per indicarci questo suo grande contatto il contatto che aveva con la con natura e anche con gli esseri della natura quindi gli esseri diciamo invisibili della natura e con gli elementi punto dall'altra questa parte che in questa vita non non è presente c'è poco l'epoca fine in questa vita chiamali gli esseri affini alla della natura gli esseri che fanno parte della natura dovrebbero chiamarsi elementali elementali chiamali allora vedo li vedo legati gli elementi e quindi a 1 lo vedo collegato al fuoco ci sono spesso dei ritrovi intorno al fuoco e come fosse in centro alla fiamma in centro la fiamma come fosse ondeggiante e come fosse diciamo così lo spirito del fuoco vogliamo chiamarlo così poi c'è quello dell'acqua c'è quello legato all'erba le piante sono come fossero traslucidi un po in trasparenza e come se fossero in contatto con le persone ma solo le persone che riescono a vederli ascoltarli non sono invasivi padenti ma sono come dire chi vali per dire intorno al fuoco e si mette in contatto con questo spirito del fuoco e chi è più sensibile lo può sentire come se ci fosse un fischio un fischio legato con l'elemento fuoco un fischio di fuoco acqua piante le piante non la terra ma le piante in questo caso e basta legato al cielo l'aria non vedo niente è come se quello del fuoco fosse unito a quello dell'aria o dell'etere i simpatici spruzzini nell'aria che ci sono in questo periodo e in questo periodo intendo gli ultimi 10 20 anni infastidiscono interagiscono con gli elementali tu parli di quelli che arrivano dal cielo dalle e chimiche la scia noi siamo complottisti quindi non esistono le sci e chimiche tanto certo anche la mia voce ecco ma anche un po influiscono anche adesso senza ecco 12 influiscono ma non come se non non li toccassero nel senso che è come se si rimassero sospesi come se ecco come se le scie rimanessero si potessero attaccare diciamo no come funzione come 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 materia diciamo alle persone però non è anche alla terra sì anche alla terra però non dappertutto dove è come se questi elementi elementari come queste si essere elementi della natura o questi spiriti della natura diciamo così proteggessero alcune cose alcune zone alcune cose e come se ad esempio faccio questo esempio qualche mi arriva dove viveva lei no in questa comuna lo spirito del fuoco proteggeva e come se tutte le persone che erano intorno a questo formavano questo cerchio e ed erano intorno in questo caso a questo fuoco e come se concentrandosi anche su questo su questa fluttuazione su questa energia legata al fuoco e come se portassero una parte di di questo di questo spirito non è la parola giusta ma di questa energia si rivestissero di questa energia creando una sorta di protezione vogliono dirci qualcosa e scusami qual è la causa esoterica di questo nuovo eco molto forte che sembra che io stia parlando in una scatola di metallo e ovviamente quando la nomino scompare si è come se ci fosse un collegamento con gli elementali in questo momento come se ci fosse un nominarli facessi li desse valore li desse ancora più ci fosse un contatto non con gli altri dall'altra parte che cercano di distruggere di sfarma ma come se ci fosse una risonanza con con quello di cui stiamo parlando ma gli elementali vogliono dirci qualcosa ma a questo questa energia del fuoco sta sta dicendo che tutto che tutto sta per finire che sta per finire che tutto quello che che adesso ci sta cadendo addosso sta per finire parla di delle scia ma parla anche di di campi elettromagnetici parla dei campi elettromagnetici parla delle onde delle frequenze diciamo che il suggerimento mi dice che chi ad esempio torna al fuoco perché ha un all'effetto e prende in parte parte della potenza del fuoco come chi si invece si collega all'acqua perché come se entrasse in risonanza e facesse cresce una barriera intorno a sé e a volte serve il fuoco a volte serve l'acqua no a volte serve il vento ma il vento lo vedo come elemento regato anche il fuoco a seconda di quello che può servirci collegandoci e visualizzando questo elemento possiamo attivarlo e no poi in questo il fuoco questo è il fuoco ma in collegamento con l'acqua nel senso che che il messaggio è questo che ogni qual volta noi serva ad esempio più energia più determinazione più concentrazione no concentrazione no energia determinazione forza noi possiamo richiamare noi l'elemento del fuoco e attivarla e poi con una visualizzazione disattivarla quando non ci serve più e lo stesso per l'acqua invece mi dice che è legato alla concentrazione alla concentrazione e lasciare passare lasciare andare e diventare come permeabili quando andiamo ad esempio in luoghi in cui ci sono pensiamo ci siano tante persone tante energie intorno che non possono essere vibrazioni diversi della nostra e invece visualizzando l'elemento acqua in noi possiamo come diventare impermeabili impermeabili quindi che tutto scorre intorno ma niente ci niente entra dentro e questo è l'acqua le piante e le piante sono emozionanti perché le piante sento come energia proprio come la linfa che la linfa che scorre proprio proprio come essere a casa proprio l'entrare in contatto con le piante è una cosa che può avvenire proprio standoci vicino questo è in ogni pianta in ogni pianta soprattutto negli alberi ma sicuramente anche nel singolo fiore ma soprattutto dagli alberi era chiusa una gran parte di energia proprio la vedo come di corrigione di corrigione proprio dell'anima perché la vedo così la pianta che ha una vibrazione che emana all'esterno come se irradiasse questa energia per cui stando lì vicino adesso abbracciandolo meno anche solo toccandola è come se ci fosse un collegamento proprio di con la ps proprio la ps che che c'è uno scambio energetico e proprio si guarisce come se guarisse proprio la parte dell'anima la parte delle dei traumi di varie sanare varie sanare abbracciare gli alberi poi sarà abbracciarlo anche solo toccarlo anche solo sederci sotto mettersi sulle radici in contatto e meglio però vedo che è come fossero una casa come fossero una un cappello un ombrello però dal quale scende scende proprio una parte energetica che fa ritornare in equilibrio va bene e questa è una parte che manca nella vita di jackie ma è una parte che fa parte del passato di jackie che fa parte del passato che fa parte del passato ma che in qualche modo lei potrebbe ancora maneggiare però in questa vita la vedo come assente non la sto utilizzando le vibrazioni di jackie 85 miliardi consapevolezza 130 per cento anima 60 per cento pite precedenti 1950 cervello 6,3 ok velocemente vediamo l'entità eteriche allora io ho visto due proprio la forma di serpenti in realtà più che rettiliane proprio una forma di sapere che le fondi che girano in eterico la paura dei serpenti deriva da questi e poi se si perché sono lì da parecchi anni parecchi anni sono in eterico sono come se li sentisse ogni tanto un po passare addosso questo mi arriva poi vedo una una mantide la paura degli insetti deriva dalla mantide deriva dalla mantide si si deriva dalla mantide e poi vedo dunque fa uno un essere che sembra tipo un elfo effetti che è alto dai piedi al ginocchio che lì però guardandolo toccandolo toccandolo è un edl semplicemente un edl solo uno che piazza fatto di davanti uno che piazzato dietro sulla schiena a metà delle scale ok due basta poi se questa sta interica mentali allora mentali c'è una cosa che è legata ad una città un paese e c'è come se ci fosse nella sua mente sempre l'idea che diciamo di trasferirsi che dovrebbe stare da un'altra parte che vivrebbe meglio da un'altra parte sempre ma è una come fosse un pensiero che sta lì e che che ha credo da quando era ragazzina che idealizza idealizza un paese un una città altrove ecco si chiama altrove proprio e quattro che va anche il cinque anche sei dipende da come si come se si gonfiasse diciamo così diciamo che questa entità mentale intanto molto probabilmente questa entità mentale crea l'aspettativa poi non non elaborata e non abbracciata perché in effetti già chi abita sopra la madre e credo che non abbia così grande piacere di vivere a contatto con una donna farei in una stanza quella della madre piena di santini robe appese immagino che no e non solo e poi litigi poi ci saranno tutta una serie di non si deve fare la sua vita dove deve andare ok poi i talentali e poi ne vedo un'altra è legata al senso materno materno e quale dentro c'è una cosa c'è la domanda sono una buona madre sono una buona madre prima di tutto sono una buona persona e seconda battuta sono una buona madre così quindi non dico costantemente ma buona parte del tempo nella settimana si si dedica a chiedersi se è una buona persona se fa del bene se manifesta il bene questa parte qua devo dire un livello questa 55 e facendo una piccola sembra una lampadina proprio messa sopra la testa e questa mi si presenta così perché più che corrispondere a un'idea come di solito rappresentata la lampadina e il dubbio è un'entità mentale legata al dubbio al dubbio al dubbio non un dubbio in particolare ma ha tanti dubbi al farsi sempre più che tante domande mettersi tanti freni e quindi fa una cosa dice starò facendo bene dice una cosa avrò detto bene quindi interrogarsi sempre su tutto ciò più che su tutto ciò che deve fare su tutto ciò che è già fatto quindi è un po come invece di farsi le prima magari la domanda le mette l'azione e dopo vive male l'azione che ha messo in ogni caso perché questa domanda non la potrà poi sapere la risposta molto più avanti però così c'è questa piccola ancora entità mentale il livello e 3 non è altissimo ma che tre impianti allora vedo uno nella parte destra dell'addome potrebbe esserci fegato ad esserci fegato giusto comunque nella parte destra facciamo conto come l'altezza del gomito mettendo giù il braccio all'altezza del gomito destro e li vedono impianti che va un po inibire il funzionamento di quell'organo che c'è lì come la l'eliminazione delle tossine delle sede le tossine questo non arriva poi e vedo un altro nella parte un nuovaio sinistro o comunque la parte sinistra legata l'ultero lo vaio e poi poi vedo una difficoltà più che l'impianto potrebbe essere un ex impianto una cosa che adesso non c'è più ma mi rimane come un velo sul piede sinistro ok un po di cause esoteriche vabbè quella dei serpenti degli insetti o che ci sono delle entità corrispondenti ma ci sono anche altre cause esoteriche allora degli serpenti mi arriva l'immagine di allora lei che viveva la vedo un paese può essere sudamerica e la vita esperienza precedente in sudamerica vedo un serpente molto grande e vedo lei come un bambino può avere 6 7 8 anni più 6 7 è un serpente che li va li va di cade diciamo addosso vedo un albero un ramo e la strozza lo strozzaro maschi vedo che ha finito l'esistenza presto tipo sì molto giovane appunto ma da 67 anni qua ci vedo il collegamento con la paura dei serpenti e gli insetti degli insetti vedo solo la mantide le mantidi ok causa esoterica dell'inadeguatezza insicurezza e paura che si ricollega a insetti e sapenti no quello del punto gli insetti lo colloco così quello invece della inadeguatezza io e quello della paura la paura no inadeguatezza lo collego proprio con l'entità mentale grande quelle di livello 5 se non sbaglio che era la vedo nella parte la parte alta della testa per cui si chiede ma sono una buona persona sono una buona madre faccio bene manifesto le mie buone intenzioni quando sono con gli altri si vede quindi lo leggo proprio all'entità mentale che ha molto invadente questa entità poi solo questo e poi sono sì 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 causa esoterica dell'insonnia quando specialmente ha delle cose importanti da fare giorno dopo allora qua lavorano lavorano bene e appunto questi questi rettiliani qua perché è come se inibissero la parte della decisione è come se anzi la dico meglio è come se spingessero in una direzione che non è quella che la fa evolvere cioè lei pensa una cosa che è migliore per lei poi loro invece spingono un'altra direzione quando lei si trova a essere divisa tra ciò che vorrebbe fare ciò che invece si sente obbligata a fare a come questa reazione fisica di lei la vive come insonnia ma è come se fosse un malessere uno strappo come fosse proprio una la vedo come un affanno anche nel respirare alcune volte come le mancasse respiro quindi è legato proprio a questa entità questa interferenza che ha problemi rifugio e sogna occhi aperti causa esoterica rifugio a me non mi ricordi di rifugio problemi rifugio cioè lei crea dei problemi inesistenti diciamo a che era sì per per evitare di mettere l'azione cioè per evitare di grande un problema esistente lei trova una soluzione a quel problema mentre non mette un'azione la dove invece servono e per collegato proprio alla paura di non essere capace di non riuscire di fare bene no quindi come se si auto auto sabotasse creando come uscito da un'altra parte invece di mettere l'azione che magari è davanti a sé però è legato a questa entità mentale molto molto invadenti molto invadente che le fanno fare un passo avanti e un passo indietro cioè la destabilizzano molto la 4 la 5 o la 3 di entità mentali allora la quella dei suoi dubbi se sono se faccio bene se si vede che io sono brava che sono una buona persona e quella lì centrale che è più piccola diciamo come dimensione e anche come livello la 3 però è presente costantemente proprio costantemente mentre le altre si attivano sono presenti ma si ingrandiscono a seconda della situazione non si riducono invece questa qui l'accompagna in tutta la giornata sul sul chiedersi sarà facendo la cosa giusta ho fatto bene ho detto bene andrà bene è proprio un costante farsi delle domande rimane diciamo per lei anche faticoso perché le porta anche un carlo energetico che la la stranca la sposta molto va bene chiama i disincarnati il padre mancato da due giorni e l'ex marito ci sono al padre arrivato stando tossendo tossendo facendo questo come se ci fosse qualcosa a livello dei polmoni o a livello della via respiratoria le vie alte respiratorie invece il marito lì lo vedo tranquillo e come se fosse un po in questo momento come fosse un po apatico un po indifferente non fosse tanto coinvolto diciamo quella situazione fosse un po indifferente hai detto sì ok perché essere un attimo incepata la comunicazione va bene diamo una vica entrambi sì l'hanno presa come reggito il padre il padre si sta riprendendo nel senso che vedo che respira bene e vedo che come se avesse cambiato colore al viso e fosse diventato da da un colore un po di grigiastro no un po cupo un po non colorito invece ha preso un bel colore rosa cioè visivamente questo mi dice che ha cambiato livello energetico proprio come si presenta mentre il marito è come se all'inizio fosse in una condizione come dico prima dicevo di apatia ma un po come fosse nel dormiveglia come fosse ancora un po nel sonno e invece dopo la vixi svegliato come fosse nel limbo ecco quando è arrivato era ancora come addormentato e adesso si sta guardando intorno adesso lo vedo lo vedo contento contento si vedo che sta guardando intorno per cosa c'è cosa sta succedendo e stupito anche un po stupito devo dire c'è un messaggio del marito che vuole lasciare alla ex moglie mi dice questo che è dispiaciuto è dispiaciuto perché come sono andate le cose e perché non ha saputo lui dice così non ha saputo darle quello che lei si aspettava come se pur stando bene che lo vedo che è sereno fosse diventato fosse consapevole del fatto che che le ha fatto diciamo mancare delle cose che lei si aspettava delle cose da lui del rapporto e che lui non è stato in grado di dare e questo mi sta riconoscendo questo che dispiaciuto che vuole così come chiederle scusa scusarsi di questo che il padre e il padre il padre invece lo vedo che saltella cioè in questo momento come se fosse passato questa questa sensazione che aveva ancora con sé fisica e lo vedo che sta saltellando come come quando si fa un po salto in alto no quando quando si si arriva prima di mettere il bastone no per poter passare lì che si fanno dei salti lunghi e un po in alto così con le ginocchia in alto ma vedo così che sta saltando così contento che sta girando questo che gira così è molto contento e felice di poter passare oltre cioè di poter passare definitivamente questo chiede di salutare le altre persone sua sorella mi sembra di casa mamma di salutare gli altri dice dice di salutarle gli altri e ringraziarli dice che è stato è stato felice di averle come figlia nonostante le incomprensioni che c'è nonostante le discussioni in realtà questo sì e poi sono un metodo durante passare oltre proprio pronti come il posto in cui si dimuova prima di venire qua allora lui dice che è stato molto a contatto con la famiglia le visti visti piangere le visti tanto piangere c'è tante lacrime e un po scuote la testa dicendo quello perché non era quello che mi dice come se non serviva ecco dice così è stato tanto a contatto con il con loro e nei preparativi vedo che è stato nei preparativi quindi mentre lo organizzavano funerale a questa parte qua mentre loro erano in ospedale a prenderlo non si è mai staccato dalla terra e neanche da loro ma si vede la luce si vede il tunnel cosa visto visto che è successo da due giorni facciamoci loro a contare nel momento in cui è mancato quindi nel passaggio a me lo guardare allora lui raccolta così che il suo passaggio è stato allora lo vedo coricato lo vedo che si è aperto sopra di sé fai contro letto sopra di sé si è aperto come una o un tunnel come uno uno un cerchio diciamo così un cerchio così quindi come un portale mi viene da dire come un cerchio che da cui si vedeva da questi si vedeva non una luce ma da cui si vedeva come uno spazio al di là uno spazio che solo passandoci attraverso vedevi cosa c'era però quindi si è aperta come così come un varco quindi la possibilità di passare da quella parte lì però è come se fisicamente nel primo giorno secondo giorno per lui sono passati solo due giorni poi è stato chiamato qua no in realtà è come se il passaggio tu lo puoi fare subito o lo puoi fare dopo tipo il terzo giorno vedo no però i primi giorni puoi scegliere ancora se stare vicino ai parenti attaccati ai parenti c'è ancora questa disponibilità diciamo del corpo che ancora collegato con con la ps con l'anima no è ancora collegata per cui vedo che lui ha visto questa cosa che si apriva ma non c'è passato non è andato come se fosse rimasto a fianco al corpo e avesse seguito tutti i posti in questo stato messo il corpo e poi è andato con loro così oggi è stato il generale no oggi era presente lui sì 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 è stato presente sempre in tutti i posti in cui è stato praticamente il corpo e poi stava comunque attacco con loro ha visto i preparativi ha visto il signore con cui parlava della come si chiama della cosa funebre della pompe furibre una l'accordo che ha preso è stata è stato con lei c'erano degli edl in chiesa era una chiesa no già chi c'erano degli edl in chiesa lasciarono gli edl che erano portati da chi andava chiesa ora insegniamo insegniamo al padre a creare una d'eternum bello potente e diciamo di tornare dietro nel suo film quindi al momento di questa mattina penso in cui ha fatto ha partecipato al suo funerale e di metterlo in centro nella chiesa poi ne mette in uno nel sagrato poi le mette uno nella macchina di tutti quelli che sono venuti con lui per lui funerale ne mette uno dentro la campana del campanile ne mette uno nella sagrestia del curato distribuisce ad eterno che sono fonte inesauribile di energia pulita creatrice non sono null'altro che questo non la detrae da se stesso questa energia sì perché è infinita può mettere vari zeri alla vibrazione quanto gli pare e piace ne mette 9 10 perché non ne mette 19 di zeri perché non ne mette 29 di zeri può mettere quelli che gli pare zeri ogni zero aggiunto sono molta di più è molto di più sì lista sta lanciando come fossero come fossero con delle fionde no così praticamente lui li crea piccoli e poi lanciandoli arrivano grandi grandi che sono così più o meno è ognuno e la cosa che mi ha fatto sorridere come ha detto di metterli in chiesa julia messi nei confessionali ottimo e poi uno dove serviva perché si era visto un edl un elo in sera di tutto di sopra come si chiama quel posto in cui il prete fa la predica comunque dove c'è il tar l'altare lì 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 proprio dietro al prete e dice minchiate l'altare sì sì penso sia realtà comunque dove il minchia il minchia tome to il pulpito non sarà un po il titolo se quella roba se 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 c'erano elo in bello grande se li ha fatti le ha fatti la distribuiti li sta ancora lanciando siamo ancora qui nel 2022 stare dietro a queste robe vendita veramente un belico totalmente incredibile va bene il padre diventa un generatore di ad eterno ma lo insegna anche al ex marito di jackie tutti e due hanno lasciato il loro messaggio li salutiamo e li mandiamo nel loro portale definitivo è portale aureo ma ora sì sì in realtà si apre sempre quando dico disincarnati io lo vedo già che si apre il rosso luminoso pronto che li attira che abbiamo trovato tutti i disincarnati di tutte le generazioni di jackie anche quelli che lei non conosce in realtà jackie è amica e parente no è parente di altri nostri due clienti quindi secondo me dimmi tu poi se mi sbaglio non arriveranno frotte di persone perché già stato fatto un lavoro le generazioni sono quelle per cui pareti sono quelli possono arrivare parenti che la prima non hanno risposto alla seconda non erano convinti alla terza si stavano mangiando le unghie hanno tre possibilità per rispondere finalmente vanno se è così dimmi quanti sono ma meritato il numero mentre passano le persone il numero 75 va bene né pochi né tanti benissimo chiudiamo è andato il padre del marito si si sente al primi ok già chi era abdomante c'è una causa esoterica sì sì adesso che mi hai ricordato questo punto è proprio parte da quella vita in cui è raccontato con la natura in effetti l'addomante e a contatto è collegata all'elemento acqua e anche l'elemento quello delle piante perché comunque i rami d'olivo sono due dico appunto e quindi se c'è questa parte qua premonizioni causa esoterica si vede anche quando lei sogna a parte quando appunto dice che non che l'insonnia non riesce a dormire però quando invece alla vibrazione alta diciamo che dorme bene vedo che si apre una parte che proprio un po come come il portale di prima del papà per dire no ma più piccolo e vedo che attraverso quel portale lei può vedere delle situazioni che avverranno o anche delle cose passate perché mi arriva mi arriva come come sensazione come messaggio che che lei ha visto anche delle cose che riguardavano eventi passati e non suoi passati perché quelli se li ricorderebbe comunque però gli altri di altre vite di altre persone più che di altre vite cosa è successo sono successe nella vita di altre persone che però loro direttamente non le hanno raccontato e lei le ha viste così quindi a questa parte indietro o in avanti attraverso questo portale che si apre quando lei dorme ma quando all'energia a livello energetico alto va bene li invito appositamente alla fine nel cinema le due figlie il compagno tutta la famiglia tutti quelli che arrivano e tutti gli amici biker ricordiamo che cinema è un plus qualcosa in più le persone vive possono vedersi le sessioni fare il proprio percorso da soli figlie comprese che se sono minorenni non possono fare una sessione aspettano 18 anni poi possono farla partiamo dalle figlie vengono chi viene nel cinema accetta le informazioni non viene per spiare non per criticare per sbuffare per arricciare l'indice nei capelli vedo una figlia che piccola e che entra entra un po guardando incuriosita ma più che altro entra per sbirciare cioè per capire cosa sta succedendo no quindi a un fare un po così dire entriamo e vediamo e invece quella più grande è un po più titubante nel senso che entra fa dei passi lenti fa dei passi piccoli passi per entrare però ci sono tutte e due nella loro maniera ci sono tutte e due compagno più fia più domanda se è una fiamma o un'anima gemella al compagno ha visto che arrivava dall'altra parte rispetto alle figlie devo dire non è una fiamma è un'anima gemella non anima che livello livello 4 è un bel uomo è un bel uomo visto in eterico nel fisico e anche in eterico ma la di gusti non piace non piace non piace come se c'è nel senso che lei piace una domanda un po particolare dire al gruppo di notre dame un bell'uomo no no e sicuramente allora salvati con è un tipo che va sempre bene cioè che era molto bene no no e neanche intelligente quindi no no voglio dire è simpatico no voglio dire e allora quello che sicuramente l'ha affascinata all'inizio è un uomo io dico rispetto a lei che ci sa fare vedo che aveva una buona parlantina anche se adesso è un po calato nel linguaggio e poi quello che vedo è che è una persona normale cioè non è richardire e neanche possono trasformarsi in fiamme sempre possibile danno anima gemella possono serve ma non mi sembra che vogliano non mi sembra che lei interessi questo passaggio cioè nel senso che lei va bene la condivisione per lei lo sa insomma cosa ne interessa però non mi sembra che sia così fondamentale il passaggio in fiamma della famiglia sì dimmi no 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 va bene se la famiglia quanti in percentuali si sono presentati tutti il cento per cento stessa domanda dei biker quindi una percentuale per la famiglia una percentuale per i biker non è così importante quindi quello che ti arriva ma della famiglia nel cinema vedo un 60 per cento biker 80 tra l'altro sono arrivati tutti in moto tutti benissimo molto bello ma la domanda più interessante di questa parte relativa al cinema è che io noto visto che ha visto che già chi è la terza è un caso eccezionale secondo me che jackie ha una sorella e un cugino e tutti e tre hanno effettivamente delle una sensibilità delle capacità una consapevolezza molto elevata esiste una causa esoterica una vita precedente una qualunque ragione che un caso un po raro è un caso abbastanza frequente che arrivino fratelli cugini eccetera non così frequente ma frequente ma addirittura tre e tutti e tre dei bei pezzi da 90 il cugino me lo ricordo molto bene sua sorella me la ricordo molto bene perché non è passato tanto tempo molto simpatici molto in gamba multava molto avanti da tanti punti di vista io vedo che hanno fatto parte tutte e tre di un gruppo allora possiamo dire fine 1600 era un gruppo di ricercatori di ricercatori di tipo di astronomia di fisica era un gruppo scelto diciamo così perché potevano essere una decina e come se ci fossero più gruppi nel pianeta nelle varie parti del mondo e studiavano erano degli studiosi ma anche praticanti quindi mettevano in pratica vedo delle cose delle legate alla fisica legate alle energie dal punto di vista proprio pratico e non energia come studio dell'energia ma facevano proprio esperimenti ed erano già insieme in questo gruppo e non erano parenti ma erano insieme benissimo andiamo con jackie al suo cluster ok allora l'imboccatura del cluster e vedo un binocolo binocolo un canocchiale con una sola con un canocchiale che punta su tutti i contratti che come fossero dei piccoli pianeti appesi con un filo facciamo un occhio di bue sui contratti che sicuramente ci sono relativi al rapporto che ha due contratti che ha con le figlie e rapporto che ha con il convivente che in effetti lei aveva chiesto ok cosa devo vedere come cosa dicono questi contratti il rapporto con le figlie siccome lei appunto combattuto con le figlie le figlie che non vedono l'ora vicini vacarsi che potrà essere così liberi di sottostare al ricatto ma è passata però tanto tornerà chissà cosa se non cambia nulla per poter uscire mangiare i panini nelle multinazionali che producono panini di scarsa qualità per poter essere normali come tutte le altre ragazze no poi cosa ci sia detto con la roba lì non importa l'importante essere normali la normalità torniamo alla normalità e lei ha dovuto combattere perdere il lavoro cioè lei la sorella il cugino sono un certo livello le figlie no ma ecco questo potrebbe essere la domanda vera perché qual è la causa esoterica qual è la consapevolezza delle figlie in generale se lei a un 130 le figlie quanto stanno e vedo 60 che la risposta è stata data convivente il convivente vedo vedo tipo 80 in questo in quella frase che dicevo sui costi prima vedo che al di là della del piano fisico no della bellezza vedo che lei lo sa quindi lo dico ma lei lo sa lui è meno consapevole di lei è un po come se su delle cose si trovano ma su delle altre come se un po lo dovesse portare a spalle e guidarlo però lei lo sa io lo dico solo per te lucio perché lei lo sa già però così quindi ha fatto una scelta in questa esistenza di di fatica nel senso che di dover per poter vivere la sua vita bene deve fare spazio deve mantenersi dritta dritta sui piedi e sulle proprie scelte ha proprio fatto questa scelta di fare questo sforzo di avere trovare questa difficoltà per potersi sempre più radicare nelle scelte anche perché vedo che un po lei questa modalità del fatto che quando si trova a lottare contro persone lottare tra virgolette non rispetto alle figlie ma a fare questa fatica questo sforzo verso persone che hanno delle idee molto diverse in lei si radica sempre di più la comprensione la consapevolezza che quella è la scelta giusta per cui sono in parte le persone che sono a fianco contro quello che lei fa un aiuto per lei di consapevolezza perché lì nello sforzo di nello sforzo di crearsi uno spazio di spiegare che lei capisce che quella è proprio la cosa che va bene per lei quindi sono proprio deutici se vogliamo ok via tutto tutti i contratti del castro delle servono più in funzione appunto di questa sua grande consapevolezza oggi possiamo eliminare tutto notarle in un portale definitivo in questo caso sì e lei può mettere al posto di tutti questi contratti ad eterno di nuovo una pila tonica un piccolo sole di frequenza molto molto alta eterna valida per sempre ad eterno non l'ha fatto l'ha fatta se ne vedo che ruota ancora continua a ruotare il senso orario ok ok avatar ormai a analizzare un fantoccio programma non ha molto senso non ti faccio neanche più dire come il computer come ha vestito lui in che atteggiamento quando si arriva all'avatar qualunque cosa sia e stia facendo lo si prende e lo si botta in un portale definitivo è come quando si butta la pattoniera alla fine della giornata non si sta a vedere a qui la carta lì il tappo sono per gli butti fine l'ha fatta l'ha fatto mentre parlavi l'ha fatto è andata via tutto si sta facendo la d'eterno nel secondo quando la merasomo lo dici ok c'è piazzato ok nuova frequenza non è da 190 scusate 190 miliardi nuova consapevolezza ci sta tutto anche poca 230 per cento ps ma qua c'è da 52 per cento vite precedenti ottimo comunque 1455 cervello 8,9 9 9 per cento con queste nuove condizioni ci sono ancora entità impianti entità mentali eteriche impianti no non c'è più niente la capacità di trovare l'acqua la rabdomanzia che si continua esserci se si le premonizioni ci sono ma vedo che adesso se lei volesse non è detto che voglia può spostarla anche di giorno con un alzamento di frequenza volendo seduta tranquilla potrebbe volendo averla anche di giorno messaggio finale di jackie a se stesso la vedi bene no che se di meglio la vedo meglio e la vedo come se brillasse proprio come se soprattutto intorno alla testa e le spalle come se brillasse come avesse un po posso dire una corona di luce cioè proprio così brillasse intorno alla testa fosse tutta nominata allora lei dice la peste dice che le sue capacità sono solo all'inizio quello che lei fa di se stesse solo all'inizio perché se lei lo desidera sottolinea questa cosa se lei lo desidera può veramente ampliare le sue percezioni le sue percezioni e le sue esperienze è come se se lei decidesse oggi di ampliarle e di aumentare questa parte per dire da qui a io vedo come data che mi presenta da qui a due mesi potrebbe averle tutte completamente in mano dico due mesi perché non subito non domani perché è una cosa che ha necessità di fare dei passi che si fissino poi altri passi che si fissino in modo come a salire degli scalini non può far da qui a qua perché non anche il corpo ha bisogno di adattarsi il corpo fisico quindi è bisogno di fare un'esperienza passa qualche giorno un'altra esperienza in questo modo qua se lei lo desiderasse può fare questo e poi levarci nell'arco di un paio di mesi quindi di di essere tranquilla rispetto a quello che può veramente dandosi ascolto arrivare molto lontano in termini di spazio ma anche proprio in termini di consapevolezza di scelte di azioni di tutta questa parte benissimo rispetto al compagno come la vedi ma non abbiamo già detto va bene stefania disconnetti da tutto e tutti